A Tiusceni in spiaggia, nello stabilimento balneare Caravella Sistiana, in luogo pubblico e davanti a minori. La polizia ha arrestato un cittadino sloveno di 58 anni. Il fatto è successo lo scorso 22 agosto, ma la questura ne ha dato comunicazione solo oggi. Gli agenti del commissariato di Duinaurisina sono intervenuti nello stabilimento in seguito alla segnalazione di un uomo nudo sulla spiaggia intento a masturbarsi e lo hanno subito individuato nonostante il suo tentativo di allontanarsi rapidamente. Poco prima l'uomo aveva molestato due ragazze 18 anni chiedendo loro di scattare una foto. Il 58enne è stato quindi arrestato per il reato di atti osceni in luogo pubblico e in presenza di minori. Gli agenti, appurati i fatti, lo hanno accompagnato presso le camere di sicurezza della locale questura a disposizione dell'autorità giudiziaria per il rito direttissimo.